Uomini e donne, le prime parole di Federico Nicotera e Carola Carpelli la scelta, era da un po' che non provavo queste sensazioni. E' appena andata in onda la puntata in cui Federico Nicotera ha finalmente scelto la sua Carola Carpanelli. Dopo le emozionanti parole che il tronista ha dedicato alla sua dama, i due si sono subito recati in camerino dove subito Federico ha chiesto il numero di cellulare di Carola. Successivamente però entrambi hanno condiviso le prime sensazioni a caldo post scelta. Il primo ad esternarle è stato proprio l'ormai ex tronista che ha detto. A rassicurarlo però ci ha pensato Carola che ha detto. Qui di seguito anche il primissimo selfie di coppia, pubblicato sul profilo ufficiale di Uomini e Donne. De când mă știu textul-i plin de dude, dume redate printre talea culte, încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia parat.